Ok, quindi oggi siamo pochi, abbiamo pochi studenti, pochi ma buoni. Oggi che giorno è? Oggi quanti ne abbiamo? Oggi? Gloria dice oggi. Oggi è l'undici. Hai o nei tien se io mu in kai toda? Lotto. Ok, oggi è l'undici aprile. Oggi siamo in pochi in classe. Perché? Oggi siamo in pochi in classe. Perché? Perché? Oggi siamo in pochi in classe. Perché? 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 Perché alcuni compagni sono malati. Ok. 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 . Ok. 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 Ho fatto un lungo articolo e ha fatto un bel lavoro di correzione sulla base delle mie correzioni a mano, alcune cose non le aveva capite. Ha fatto un bel lavoro di correzione con molte note e dove non aveva capito mi ha fatto molte domande e io le ho risposto. Quindi adesso lei vi spiega quello che ha capito. Va bene? Con il microfono. quindi questa è che cosa per cui abbiamo designato alla base delle cose sono alcune collaborazioni e diversamente solo sulתח industry in questo modo. e poi ho sui 500ze di rundhi con il sito 70 ripi questa non haパutato che ho scoperto ho fatto 100 ripi e ho io ho cercato per dire che son recchi un belico di rischio molto vero e vero l'olio di pote c'è il caso cosa che per esempio e vero l'olio in questo caso non mi sembra l'olio ma che per esempio non mi sembra e vero l'olio di pote merendolo c'è il caso Ehm...就是... 換另外一種寫法,整個句子會更好的... 的...的那一種... 對,好... 那...我...我要講什麼? Ok, lo spieghiamo insieme, allora, va bene? Quindi, ok, studio Anthropologia nell'Università Nazionale di Taiwani per la insieda, c'è scema? 然後,你要解釋你的修改的那個note 你的重點應該是在這個note,對嗎? 好,就是這一個,就是我連自己的細索都拼不好 我以為重音在R,然後結果是在G這樣子 所以就是,就是一開始就是他,就是我把重音標在R上面 對,好,所以就錯了,我就把它攔字了,我就修正他 然後就是,我除了細索拼不好,你自己的學校不會拼 好,就是我,就是忘記要寫國立的 我只有寫Università di Taiwani 所以就是這邊把Nacionali補上去 對,然後那個Università的那個物要大寫 對,因為是名字,對吧? 就是廣泛的名字,所以就是這樣寫 好,然後,針對 對, la mia settimana molto stanca 在這裡的差別是什麼? 你本來寫的,然後,嗯 就是我原本是寫Moti stanca 然後,可是 stanca應該是人感到疲倦的 然後,可是我主詞是,就是我的一個星期 所以就是要把stanca改成 嗯,所以我們上一次好像也有一點補充這個地方,對嗎? 我上一次也做了一個補充,因為是一個共同的一個錯誤 stanca好像是一個結果 也是你做很多的,你做感覺,你做很多的動作啊 你工作很多,所以就結果呢 你感覺到疲勞,是一個結果 你就是stanco 可是stancante是令人感到累 是某一個事情讓你感覺到累 OK?這個也是stress,對嗎? 某一個事情是,你是stressato o stressante 比方說 這個也是,可以說 這堂課是令人感到有壓力 所以,這堂課是給別人壓力的 這堂課是stressante 這個現在分詞,ok? stressare是動詞,對嗎? 那就stressante 那我呢,我收到這個壓力 我收到這個效果 所以我是stressado,所以我是stressado 所以我是stressado ok?是過去分詞 過去分詞 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 過去分詞是你收到這個過程 這個效果 所以就是有一點被動的 所以你是,過去分詞 我是stressata stressato ok?那這一堂課是令人感到有壓力的 所以是stressing 那是stressante 以德利文是現在分詞 stressante ante的結尾 stressante 好,不要說老師吧 老師自己可能也是stressata 好不好? 可是在課堂上 對學生可能是stressante 好,那學生是stressato 比如說被老師或者被這堂課 或者被 其他的事情是stressato ok? 這個是我們的人生是沒辦法避免的 我們任何事情讓我們感覺到stressate 可是我們一直有活力 對嗎? 好,所以這個活力還是會有 vitalita還是會有的 所以不用怕 好,所以 la mia settimana è moltostancante 對嗎? 因為活動很多 所以就 你的 settimana是stancante 你自己是stanka 對 la settimana是讓你感到stanka 好 可是la settimana是stancante pa bene? 好 你是stressata 那 la settimana是stressante ok? 你是stressato il lavoro 你的工作是stressante 好 我的stancante ok 好,然後下一個就是 就是這篇文章 對不起,還有一個multo 你本來說multi嗎? 喔,對 就是我原本是用那個 那個troppo 對 然後但是就是因為就是老師有說 就是他應該是要指 就是超過一個標準 然後一個限制 然後如果你在這邊用的話 就很像在諷刺你的這一個禮拜 這樣子 對 好像是年輕人就比較 可能是年輕人的語言啊 troppo bello e troppo stressante 這個就變成是 不是標準的 就是可能是有點諷刺用的 好,要不然是multo stressante 就好了 不是troppo troppo是按照一種標準的 所以overdue 我知道你是 你可能用中文可以說是過度疲勞的 我了解 可是哪裡跟哪一個東西比 所以沒有這個東西比 所以就是你的意思是非常 所以就是multo 不能說troppo troppo是應該有一個標準 誰會說troppo 好 好 那下一個標情就是 我原本用那個trend 然後好像就是太正式了 所以就是改成messa 那當然你就必須要說le dieci e treinta 如果是在一個開會啊 在開會裡面的就很 一個或者一個研討會什麼的 或者就很很正式的場合 那當然必須要說le dieci e treinta 但是你在這樣子一個 好像你的日記啊或者什麼的 就很簡單的一個文章 你寫le dieci e treinta 其實也有一點太正式一點 所以dieci e mezza是比較自然的 然後這一個就是 這一個我原本是寫 就是on ni no ne di matina 然後可是就是明明我前面 已經有講過了 所以那我就是不需要再講那麼複雜 所以我直接用die matina就可以了 對 因為你這輪的地已經說了 perque no no lezione di matina 其實這個perque 更好也可以連在一起 對啊 因為是一個句子 所以更好的我們可以 變成一個句子 然後這個第七格就是 就是我原句真的寫得很龍 我就是因為我都吃早午餐 就禮拜一早沒課 然後就睡得不完 然後我就很無聊 我就查早午餐那個字怎麼寫 然後殊之只要寫就是寫 就是pacho coleccione tati就可以了 對 好 然後就是接下來是 我就是忘記那個chita前面要加那個 那個定罐詞 然後為了配合那個a 就會變成a la 對 然後這個東西是 這個是水源校區的意思 然後因為我就是那個chita 是校區的意思 然後因為我不曉得水源要怎麼拼 可是我知道濕源度要怎麼拼 這個是什麼意思 我說不是很確定 是什麼 濕源 就是濕源度上的校區 校區對不對 是campus嗎 應該是 OK 那就可能說一campus 嗯 比較好 對不起 好 我這點有點爛大 沒有用 好 好 然後接下來是第九個標籤就是 喔 我忘記加定罐詞了 所以定罐詞很重要 大家要加 不然就會跟我一樣很多標籤 好 然後 這邊也是跟 跟 喔 我原本是寫Ditchassade 然後跟這個messa一樣 就是會太正式 所以就用十二十字就好了 嗯 好 這邊 喔 我這邊就是 不小心在上面 就多了一個點這樣子 對 就不小心標中音了 對 然後 錯字改過來了 好 然後這一個是 就是 呃 喔 你這個 你這個 你是問我的 對不對 就應該是在 欸 欸 你這個 就應該是在哪一個note 我 應該寫在 某一個note 對不對 你問我的 那個note就不見了嗎 那我好像不見了 喔 你 你傷掉了嗎 我後來給你的那個note 那個黃色的布 你就換上掉了 對吧 對 對 因為我如果 啊 因為你本來寫的是什麼 就是我原本是寫說 我拿我原本那一張 對 對 A volte corro nel campo di jogging confidanzato alle 21. A volte corro nel campo di jogging confidanzato alle 21. Allה wurde takes time into Regen confidanzato alle 21. Quindi quando ordinarLo nкретo alle 29. Lo darle terror는inters sampai a la Pentagon. So I guess�ole nл eaten after a 후 veinture a la daw 소금 del45. Ho Princess con el 9 de la anghaire va a medir a una montaña parancol. Alla volta di sera vado a correre, va bene, con il mio ragazzo nel campo da jogging. Fidanzato, è che è stato un giang, quindi anche con il mio ragazzo. Campo di jogging, è stato un campo da jogging. Da è stato un giang, è stato un giang, è stato un giang. Il giang è stato un giang. Ok, è stato un giang, è stato un giang. Ho questa qua ho utilizzato, è stato un giang. Mi faccio la doccia. Mi faccio la doccia. Mi ok. Mi ok. Mi va bene, mi può essere. Oh, no. Oh, desmi. Oh, ho... 星期二? Oh, non c'è il bullying. Oh, no c'è il bullying. Oh, no c'è il bullying. Ok, l'hame, no c'è il Soo. Ok, l'ho, c'è il e ciò. Due a che c'è il tone di qui більso sur? Non c'è il che c'è il poli. Oh, ho. E questo è ilajo. E questo è il tono. Ho, io l'ho, è il tono di mezzo. Oh, no. Quindi, allora,就是,就是,我晚上去上 TOFU的考試, 然後,不要只寫,就是, 就是, 這字怎麼唸啊? 好,反正,就是, 今天,加一個, l'esame. Per l'esame. 嗯, esame di certificazione. Ok. 然後, 這個, 就是, 用 a lezione. A lezione. 就是, 表達,就是, during class, during class的意思. 嗯. 好, 這個也是錯字. 好, 這個是, 就是, 我少了一個, 動詞. Simparano molte cose, 對嗎? 用個無人稱的說法. 雖然,他就可能覺得很累對不對? 可是,在, 上那麼多的課的時候呢, 雖然, 有一點重, pesante. 有點累, 可是, 在, 上那麼多的課的時候呢, 雖然, 可是, 還是, 學到很多東西. Simparano molte cose. 他是, 用一個, 無人稱的說法, 大家, 可以, 學到很多東西. Si, 加, 第三人稱, 的變化. Ok. Si, imparano molte cose. Molte cose, 後面的, 變成, 這個, 無人稱的句子, 的一個, 呃, 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 怎麼說, 下意識的主詞, 所以, 就是, 他是一個, 無人稱的, 呃, 說法. 所以, 不是, 他自己, 學到很多東西, 大家都會學到很多東西, 在上課的時候, 所以, 用一個, 無人稱的說法. C, 加, 第三人稱, 變化的動詞. Simparano molte cose. 大家都可以學到很多東西. 然後, 接下來是, 這邊, 就是, 呃, 他的, 就是, 頻率副詞應該要放在動詞的後面, 這樣子, 然後, 我原本好像放在最前面的地方, 然後, 這個就是, 忘記加, 不定管詞, 就是, 我真的很常忘記加很多, 應該要加的東西, 然後, 這個也是, 缺了一個, 定管詞, 然後, 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 這個字是, pratico, 嗯, 因為本來, 你寫的是, conveniente, 對嗎? 對對對. conveniente, in italiano, 比較有這個, 便宜的意思, 很便宜的, 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 東西很便宜, conveniente. 呃, 如果是方便的話, 就是, pratico. 然後, 老師又, 就是幫我寫一個, 我沒有改上來, 就是, 就是, 用那個, manjo pratico, 是, 是, 有吧, 對吧, 有嗎, 老師有幫我改這個, 有嗎? manjo pratico? dove? 是另外一個檔案, 好, 那我們就知道, 沒有這件事, 好, 好, 然後, 這是我, 很瘋克的助腳, 然後, 喔, 這個也是, 就是, 一樣的, 就是我把, quasi sample, 放在最前面, 然後, 就是, 跟剛剛一樣, 又放在動詞, 靠近動詞那邊, 然後還有一個, solo, 就是solo, solamente, 對, 是兩個副詞, 對嗎? 對, 這個是很快就會有, 前, 五個禮拜的powerpoint, 就會, 整理起來, 然後, 然後, 這個部分, 也會特別強調, 這些頻率副詞的部分, 一定放, quasi sempre, 就屬於哪一種, 一定要放在動詞後面, 對不對? 跟 sempre, quasi sempre, 對吧? 放在動詞後面, 所以, 一定要靠近動詞, 所以, manjo quasi sempre, 一定要, 這樣子說, 對吧? 這個, 一定要放在動詞後面, 靠近動詞, manjo quasi sempre, 不能放在前面, ok? manjo quasi sempre, 然後, 有另外一個副詞, 對不對? solo, solamente, only, 只有, 很健康的蔬菜, solo, verdura sana, 所以, 這個 solo, solamente, 就可以放在, 頻率副詞的後面, 所以, solo, 就放在後面, 可是, quasi sempre, 一定放在動詞的後面, 靠近動詞, 因為, 它是, 修飾動詞, 好, 好, 然後, 這邊也是, 這邊是為什麼, 喔, 對, 就是我原本是辣, 但是, 改成辣, 也ok, 也可以說, alacera, 可是, 我自己比較喜歡alacera, manjo sempre, quall, 這裡是錯了, 對不起, 我本來有改, 可是, 好像你有, 你, 對不對, 就知道, qual, cosa, di, diverso, 不要用紅色的改, 好, 好, 就是, 為什麼會突然, 就是, 接這個呢, 因為我這裡, 其實在講說, 我早上只吃三明治, 然後我中午都吃素食, 然後晚上的時候, 就是, 要就是, 接下來嘛, 對不對, 我就說了一個, 晚上我每天都吃不一樣的東西, 然後原本是, 就是, 寫什麼, 嗯, 我原本是寫, 就是, alacera, non manjo, cosa, ding gualmi, 就是, 我從來都不吃一樣的東西, 但這句真的好擾口, 所以就, 好, 所以就, 好, 所以就, 改成, 我總是吃, something different, 嗯哼, qual,cosa,di,diverso, 這個, 就是, qual,cosa,di, 啊, ho, cosa,di, diverso, 這個我們都學過了, 嗯? 好, 這個是, 我總是吃, 不一樣的東西, ok, a volte vado in un museo, 所以, 你的問題是什麼呢? 有時候我去博物館, 嗯, 然後我這邊還是不太懂, 然後起來就用說, 啊, 就是, 啊, 不是表示一個, 就是, 啊, 不是表示一個, 就是, 啊, 不是表示一個, 去某個地方的, 那個, 解析詞嗎? 我怎麼用, 因? Vado ao museo, 其實也可以說, 有時候, 啊跟, 因, 嗯, 的分別, 不是特別特別清楚, 好, 嗯, 你想說的是, 啊, du museo? 嗯, avolte vado ad un museo, 可以也可以說, 嗯, 啊, 平常是, 呃, 這是嚴格的來說, 啊, 可能是, 如果這個是, 火車站, 比方說, 你可能是, vado alla stazione, 那, vado in stazione, 啊, 可能, 嚴格的來說, 可以這樣子, 啊, 是, 你到那個地區, 啊, 我到那個, 火車站那個地方, vado in stazione, 可能是, 你要去, 火車站裡面, 好, 嗯, 嗯, in questo caso, vado in un museo, vado ad un museo, 其實也可以接受, vado ad un museo, vado in un museo, vado ad un museo, vado ad un museo, 嗯, 好, 然後這邊, 我說, ad un museo, 的原因, 我加一個, d的原因, 你懂嗎, 因為是母音跟母音, 所以就加這個, d, 對嗎, 這個d是為了, 語音, 對, 比較好, 容易, 容易唸, ad un museo, 好, 好, 這邊也是, 一樣東西加, 罐詞, 然後, 這邊是, 哦, 就是, 就我原本是兩句分開, 然後有點動這樣子, 然後, 我穿, 我穿, 然後, 我穿, 好, 然後, 我穿, 好, 我穿, 好, 我穿, 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 不, 我穿, 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 我穿得很漂亮, 我穿得很優雅, 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 應該有一個複子, 不要一個形容詞, 這樣子, 哦, 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 Bella是一個結果, 可是你穿得很漂亮, 穿得很優雅, 那你就變成漂亮, 可是就, 所以, 我穿得很優雅, 我穿得非常漂亮, 我穿得特別好, 特別好, 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 對不起, 這樣, 特別好, 對不起, 我要這樣子做, 好, 反正這邊就是, 我平常都穿很隨便, e poi quando sono andati poi io vorrei ho detto dove fare un giro vi faccio vi faccio vi faccio vi faccio vi faccio non sono e non si non lo faccio non vengi non vengi Sono a pezzi Il giorno di sera Invece sono a pezzi Lo dire sono a pezzi Lo bian chan Il quai e quai de Bian chan Lai si la Lai quai la Pezzi si quai Lai de yao mi Lai de bian Quai e quai de Lai de viene.... come dice? ...sui... 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 ...lè di sui pèè? ... ... ... Il sabato no, eh? Il sabato non sei, però no, ok, ok. L'importante è questo. Il sabato no, ok, 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 ok. L'importante è un po' di, è un po' di, è un po' di, è un po' di. La professoressa della mattina, è un po' di, è un po' di. Il professore del pomeriggio. L'importante è un po' di, è un po' di, è un po' di. L'importante è un po' di, è un po' di, è un po' di, è un po' di. L'importante è un po' di, è un po' di, è un po' di, è un po' di, è un po' di. L'importante è un po' di, è un po' di, è un po' di, è un po' di, è un po' di. L'importante è un po' di, è un po' di, è un po' di, è un po' di, è un po' di. è una bella giornata il venerdì è una bella giornata il corso di italiano è un bel corso non è molto felice felice è una bella giornata il venerdì è una giornata il venerdì è molto felice non va bene è una giornata molto felice è una bella giornata che è una bella giornata è una bella giornata perché se è una bella giornata questo non è sicuro questo non è molto leggero anche questo non è molto leggero questo non è compatibile questo non è molto leggero è per esempio questa è la sua se va a fare solo in un certo ok che non è molto sentito e siccome il professore di giapponese è anche un bell'uomo, il corso diventa ancora più interessante. E così, io non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito. E così, io non ho capito. I professori sono simpatici. Inoltre, inoltre, siccome il professore giapponese è anche veramente un bell'uomo, frequentare la sua lezione diventa ancora più. Più interessante. Ancora più... Inoltre, siccome il professore giapponese è anche veramente un bell'uomo, frequenzare la sua lezione diventa ancora più bello. Ancora più bello. Ancora più bello. Io ho capito. Io ho capito. Ancora più bello. Ancora più bello. Ancora più bello. E' solo che mi ha fatto Ho qui ciò? parameters che ha fatto ciò che c'era Ma non è una figura è una figura Noma Non è un problema A un problema senza la figura Ma non è una figura Ma non è un problema Per quel momento Il pomeriggio, vado al lavoro, partai. Vado al museo antropologico dell'università di Taiwan, vado al museo antropologico. L'università di Taiwan, dove svolgo, dove faccio fare debiti. Dove svolgo, dove faccio, dove svolgo un lavoro part-time. Al museo antropologico, al museo di antropologia, jecaila. Al museo di antropologia. L'università di Taiwan, dove svolgo un lavoro part-time. L'università di Taiwan, dove svolgo un lavoro part-time. Con le ceramiche. Con le ceramiche. Con le ceramiche. Con le ceramiche. Insomma. come anche se la posizione ma questa cosa è la CIDA ma come la possibilità di modificare questo è il nome nato magari di modificare la cdc un modo di rio Questo è stato un po' dell'envolente perché vengono da deputazione non vedo il suo lavoro c'è la CIDA posto al centro è la truppazione del film j'ai appreso alla fondamentale dell'enviene dell'incipio nella savcia che è un caratto livello della romagna oi dove un po' un pezzi e poi vediamo anche un po' un po' un po' di confirmation di san francesi un po' di adesso tutti i 17,2 Oh… Grazie Non mi salgo No Non mi salgo Karri правo li è un po' di un po' davvero un po' di un po' Allo 8 7 5 6 6 6 7 8 7 8 9 11 9 8 11 11 13 11 14 orsimo prima perché non si un sennò, non si un sennò, non si un sennò. Ah preso prima di andare a lezione di italiano come pizza e frita? Come and get this with breakfast. Es così,对不对? Ah, non. Ah, non. So, non. La prima cosa in frita e lo tolita. Non. Ah, non. Ah, non. No, non. Non. Conchiamo. Non, non. Ah, non. At noone. Ah, non. Prima di andare a lezione di italiano, pranzo in fretta e poi vado a lezione di italiano, pranzo in fretta. E poi vado a lezione, frettolosamente, poi vado a lezione di corsa, in bici o a piedi. Ok. 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 e rispond line story e rispondua e rispondua a носi e risponute sono persone coi e insieme e insieme un'ostit气 sulla sede dopo la sede in un'accessione di questo di questo se si si senti 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 non poi un'accessione un'accessione quindi quando la faccia del video la faccia del video non è necessario per la faccia del video e poi ora almoverà qui non lo fa non pensare che il video che ci sono qui nel video qui nel video e poi ci sono la scena non lo fa è che il video La domenica non mi alzo quasi mai presto perché faccio i compiti fino a tardi il sabato. Studiamo nella biblioteca generale dopo pranzo. La domenica non mi aiutare la domenica non mi aiutare la domenica. E' un u E' un u D' un u E' un po' E' un e C'est à . . abbiamo vissuto molti e studiato molti in cui ogni quattro su una strada di un'unica i tutti i nostri ragazzi si potrebbero vedere tutti i nostri rispondi per un'unica intera un'unica intera quindi è stato un'unica, ed è stato anche un'unica intera della scuola Quindi, molto felice Grazie 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 Cosa? 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 Oh, c'è la DVD-d'a-la, dobbè? Ok. Cosa? 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 Hgro Susan! Cosa? Il padre di mio padre è mio nonno, però questo non è un problema. Ok, il figlio di mio padre e di mia madre è mio zio, mio fratello. Ok. Dov'è il microfono? Dov'è arrivato il microfono? Giulia ha anche il microfono. Ok, Milva. Io vi ho avuto un gloria che esce. Si ha parlato molto, moltissimo. Si può riposare un po'. Si può riposare. La tre. Il padre di mia madre è mio cugino. No, è mio zio. Bravissima. È mio zio. È mio zio. Zio o zio? Zio. Zio. Ok. È mio zio. And how? La figlia di mio padre è di mia madre e mia sorella. Si. Perfetto. Il fratello di mio padre è mio zio. Si. Perfetto. è mia cugina. Perfetto. È mia cugina. La sorella di mio cugino è mia cugina. Si. Si. Benissimo. Il figlio di mio figlio è mio nipote. Si. Si. Siamo sinfain. Il figlio di mio figlio. Non è figlio. Non è alla francese. Figlio. È figlio. Il figlio. È mio nipote. Si. La sorella di mia madre e di mio padre e mia nonna. La sorella di mia madre o di mio padre. Fa in, fa in, fa in. La sorella di mia madre. La? La? La. Su. 我知道你們有R跟L在一起的時候很...很...很... 儘量再念一次. La? La sorella. La sorella. La sorella. 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 Di mia madre e di mio padre e mia nonna. No. È mia zia. Ok. Benissimo. Perfetto. Ok. Qui invece dobbiamo aggiungere gli aggettivi possessivi con o senza l'articolo. Allora. Questa sei tu. Questo è... C'è lì ho le anche le persone che possono fare due cose. Ma Bianca con Antonio. L'altro microfono ad Antonio. Perché non hai il libro? Non hai il libro? Questa è Irene. Mia sorella. Ok. Allora. Questa sei tu. Questa sei tu. Questo è il tuo fratello Alessandro. Lo dicevi? Si. 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 Questa è Irene. Mia sorella. E questo è Giulio. Suo fidanzato. Suo ma? Fidanzato se cinci ma? Il. Suo. Fidanzato. Il suo fidanzato. E Irene è più grande di te? Si. Ha 17 anni. Senti, invece in questa altra foto Non siete in vacanza? No, no, siamo a casa Ah, ho capito Ecco questo sei di nuovo Tu? Sì, questo è mio fratello Alessandro Che però non si riconosce Perché è qui a Gli occhiali Questa è Irene E questa è mia madre E questa è mia nonna, Luisa E tua nonna quanti anni hai? Quanti anni hai? 84 Sembra molto più giovane Sembra molto più? Più giovane Giovane Quale tu vivi con? Quindi, sezzuola Quindi tu vivi con la tua madre? Con tua madre? Con tua madre? Si, habito con mia madre Mia nonna E miei fratelli Ah 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 Mia madre Mia nonna Sì, è vero Perché è cinque di danzù Perché fratelli È cinque di fù su E non bisogna prendere il quanzo? Oh, ho E miei fratelli E miei fratelli E miei fratelli Irene E Alessandro Andre Sì Bani Buona Bani Sì Sì Sì, anche, ok 都可以,都可以 可是她说 Mia madre也没错吧 Nostra madre也可以啊 因为她的那些兄弟 不在她旁边 对不对 所以 她就也可以说Mia 可是你也可以说 Nostra madre没问题 可以 好 没那 office ¿ актив吗? 我们看的 我们看一看 di利口 aiming ở nell'a still fiction A a e nella fziękuję 了 在 晓cido 哪里 在 在 あ 对 你没有 No, non c'è. Alla prossima. E' più difficile se salti da una foto all'altra. Nella foto B ci sono le tende? No, non ci sono. Nella foto E c'è... A, B, C, D, I... No, A, B, C, D... A e B. Non c'è la foto E. Nella foto A c'è il sole. C'è il sole. Udiao. Il sole. Yes, no one G di udiao, devo dire. Nella foto A c'è il sole? Nella foto A c'è... Nella foto A. Nella foto A. Nella foto A. Nella foto A. Foto A. Foto A. Può c'è foto A. Foto A. Foto A. C'è il sole? C'è il sole? No, 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 non c'è. Nella foto A. Nella foto A ci sono i alberi? Ci sono... Gli alberi? 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 Eh? One fa? Sì. Sì. Ci sono. Ci sono. Nella foto B. B? Nella foto B. Ci sono... Ci sono. Canto. Nella foto B c'è una... C'è una... C'è una barca? C'è una barca? C'è una barca? C'è una... Uu nà barca? Nella foto B. C'è una... 要不然我聽不懂 你才講的是什么 Uu nà bà car. Uu nà bà car. Bù存在這個字 Uu nà bà kà. Uu nà bà quà. Uu nà bà r r kà. Uu nà... ahmih buoa nà bà r kà. Uu nà ai bà caob... 也不存在這個字 Ok. Um... Quindi, dovevo farlo? Se chianti cosa vuoi farlo? La tango, da una... Nella foto B C'è una barca 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 Bar 沒關係 有一點英文腔 在這個地方 在 R 无所谓 我可以接受 主要是 说出来 C'è una barca C'è una barca Au Si c'è Si c'è Nella foto A C'è un bambino con il cappello C'è un bambino con il cappello No Non c'è Nella foto A C'è un bambino con il cappello No non c'è O No No Lo Lo Ce je 戴帽子的小朋友 O Lo Everybody Si c'è luditat Si c'è Sì, c'è. C'è! 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 Mela ma? Hai io ma? Won wang la ho! Won wang la ho! Waw! Ehm... Ludovico, io biazo, dicicca! Gentile, tietore! Sono laureato in economia. In... In... in economia! In economia! Oh... Un specialità... Oh... Spesializzazione. C'è! Ga so magnitude, ga sce a. C'è! 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 Gaw! C'è! Spercializzazione 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 Una specializzazione Spercializzazione Spercializzazione Due master 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 Due master Due master Circa 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 Invece Di lavorare all'università Come professore Faccio Il cameriere In un ristorante Dei Sessanta Mila 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 mi la 好 那中文是 反而 中文反而是 四个零 对不对 四个零一个等元 那就是 别吃 mi la 好 好 de i se sesanta mi la dui cento cinquantuno 嗯 可是那个语调 还没讲完 对不对 所以不能说 60.000 你说 60.000 好像 你只讲完 对不对 60.000 60.000 60.000 251 professori universitari del nostro paese professori universitari del nostro paese 30.000 hanno più di 60 anni e gli altri sono i loro figli le loro nipoti i loro amici le loro amanti e segretari e io non sono figlio nipote amico di nessun nessun professore nelle università italiane circa il 30 fa per per cento 30 per cento dei professori ha il cognome uguale a quello di un altro professore un altro un altro un altro un altro professore solo in Italia dove la famiglia è sacra è intoccabile può succedere una cosa come questa può succedere di giù in zainà può succedere può succedere una cosa come questa non è giusto non è giusto la ringrazio per la attenzione 小心 那个 cio 的发音 两个母音中间 那个 cio 等于说 双字音 怎么念 la attenzione ok l'attenzione 没问题 因为是 前面有 字音 attenzione 对不对 可是前面 那个 感謝 您 怎么念 ringrazio la ringrazio la ringrazio la ringrazio per l'attenzione la ringrazio per l'attenzione per l'attenzione 很好 这个是 我们说是 很负面的 这篇文章 我觉得 怪怪的 好 这里 还有一些 字 你们可以学 对不对 这个 mit 是什么意思呢 mit 是 mit tente vero mit tente 所以你就写 mit 表示 mit tente il mit tente il mit tente 就是 自信 的人 我们现在很少写信 都是用email 对吧 可是还是有时候 闪业信 什么的 还是会需要 正式的 还是需要写信 就是mit 就是mit 等等 你们知道这个字 所以 有 一汉 有一个 men 表示有多 少了一个字 piu 表示有多了一个字 那 比方说呢 giovanni tu dici que in italia 这个 从 下面就有 要找 一个caro 放在上面 对不对 caro giovanni tu dici que in italia la famiglia ha troppa importanza sono non non sono d'accordo io vivo e lavoro negli USA negli USA USA negli USA in America e quando torno in italia sono felicissima di rivedere i miei tanti parenti cosa vuol dire tanti parenti parenti 是 parents parenti parenti cincinci ahah tanti tanti 不要问我 tanti 你不要问我 tanti 是 molti tanti parenti cioè cioè 就说 suona mia madre mio padre i miei fratelli i nonni gli zii i nipoti e i cugini a natale ci ritroviamo tutti nella grande casa di mio nonno a todi e stiamo tutti insieme ci ritroviamo beijo ci sì 反身 动词 对不对 是什么 圆形 Ritrovarsi, brava, ritrovarsi, ritrovarsi. Ci ritroviamo tutti insieme. Dove? Nella grande casa di mio nonno a Todi. E stiamo tutti insieme. Il problema, caro Giovanni, il tuo problema, caro Giovanni, non è la famiglia, ma la disonestà degli altri. Famiglia, invece, significa solidarietà, amore e per me festa. E per me festa. 好,这个是我们这两个文章. 好的,那我这里就刺激一下你们的,你们的大的数字的念法,好不好? sulla popolazione italiana attuale,不一定是完全,完全更新的. Ok, Roma è la città più popolosa in Italia. La popolazione attuale in Italia, a quanti abitanti ammonta? Sentiamo. Ici念. Ici念 ma? Hai, sì, 一个一个, lai念. Lianca同學, Ici念,好不好? Lianca同學, Ici念. Il microfono, ah, Milva e Alice. Ici, Ici. 六十,对不对? 然后后面是六个字,记得吗? 上一次学的,对不对? 后面六个单位是Milioni的单位,对不对? 三个单位是Mila的单位. 60.462.038. Oh, benissimo! Perfetto! Ok, Silvia e Gloria, la popolazione di Roma? Duoi milioni, sette cento, venti quattro. Venti quattro, Mila, trecento, volanta sette. Ok,小心发音. Wu shen de zi in,不要变成有 shen de. Pushi, sette cento, venti quattro. Ok? Duoi milioni, sette cento, sun qi, sette cento. 对,这是我的技巧, sun一点 qi. 虽然不需要,可是用这个技巧避免, 要不然就是因为中文没有这个分别,对吧? 有声无声的,所以就很容易变成, 意大利耳朵就变成,听起来有这个无声变成有声的. Mila,已经没有这个大的问题, 因为它是印尼,对,印尼文的,没有这个问题,就对. 可是中文,语言的关系,就是语言系统, 语言系统的关系,所以就特别要就是建议你们的这个问题, 就是比较重要, sun qi. 所以,两 milioni, sette cento, ventiquattro, mila, trecento, quarantasette,对. C'è l'abbiamo 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 l'abbiamo. Milano, la popolazione di Milano. 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 I morti in un giorno? I morti in un giorno sono 1.235. E i matrimoni in un anno? Sono 33.000. Quanti matrimoni in un anno? Milano, la popolazione di Milano. Milano, la popolazione di Milano. 33.467 e le separazioni e divorzi in un anno 17.070 Ok, faccio l'ho fatta, faccio l'ho fatto, ho fatto l'ho fatta. E' una cosa più divertente, è una cosa più divertente, è una cosa più divertente. Per completare questo cruciver, ci sono dei numeri orizzontali, cosa vuol dire? Orizzontali e dei numeri verticali. Vediamo se riuscite a compilare tutto quanto. Davide, tu fai il primo. Il uno orizzontale. Il uno orizzontale. Il uno orizzontale. Ti va di vedere le foto delle vacanze? Ti va di vedere le foto delle vacanze? Ok. 好,那你現在隨便, 不要按照這個順序, 你要說哪一個號碼, 然後說 orizzontale, 或者 verticale, dan sudo, ok? Orizzontale o verticale. 然後你就 passi il microfono a una同學, ok? 然後他要回答, 好, 裡面, 隨便一個, 你現在就沒有壓力, 任何一個都可以了. Horizontale. No, 你要當數的, 然後要先調一個數字, 然後說, 我剛才說 uno orizzontale, 對吧? 現在用另外一個數字. Diciasette orizzontale. Diciasette orizzontale. Diciasette orizzontale. 那個是副數的, 對不對? 你現在是一個號碼, 所以是 orizzontale, dan sudo. Diciasette orizzontale. Si. Oh, Milva. Milva. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry. Lo stadio di Roma si chiama olimpico. Benissimo. Lo stadio di Roma si chiama olimpico, Diciasette orizzontale. mmm, Adesso Milva. Cinque verticale. Cinque verticale, chi? Gloria. Mese? Miau nieno? Un periodo. Periodo. Giù in sei i. Periodo. 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 Io. 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 Periodo. 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 Periodo, 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 periodo di venti giorni, di venti giorni? Un periodo di trenta giorni, chi deve rispondere? Mese, ok, sì, mese, 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 sorry, ok, mese. 5 verticale, mese. 8 verticale. Silvia. La mattina mi sveglio preso, anch'io. Ah, anche io, anch'io, sì, 8 verticale. How? Verticale? 13. 13 verticale. Alice. 13 verticale. 13 verticale. Alice. Conosci Luigi? Sì, suo fratello è nella mia classe. Molto bene. Sì, suo fratello è nella mia classe. Molto bene. Orizzontale. 12. Sien sudze, rauho. 12. Orizzontale. 12. Cecilia. Buongiorno, signora. Come sta? 12 orizzontale. 12 orizzontale. 12 orizzontale. Scusa, papà. Perché non posso uscire con i miei amici? Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. 14 verticale. E 3 verticale. Trè verticale. Ok. Mio padre si chiama Giovanni. Hei, ma non ha vincutato... è ug Mark. ечerito? Non è divinity. Lo vuoi, non è divinityo. Tutti laciera? Tutti la mogla. Quattro orizzontale che cos'è? Quattro orizzontale è? Il giorno dopo domenica è lunedì. L'unedì. Ok, sì, quindi è mio, magari è tuo. Dov'è? Nove orizzontale. Sì. Nove orizzontale. Abbiamo già mese. Senti, Paolo, a che ora comincia la lezione? Molto bene. Senti, Paolo. Dieci orizzontali. Orizzontale. Antonio. Buongiorno, signora. Come sta? Così, così. Così, così. Abbiamo già sette verticali. Setti verticali. Verticali. Sette verticali. Sette verticali. Sette verticali. Sette verticali. La lingua italiana è molto facile. È molto? Facile. Facile. No. No, non sono d'accordo. No, non sono d'accordo. Ok. D'accordo, accordo. Di accordo. Sarebbe di. D'accordo, non sono d'accordo. Come sono già i gatti? Invece che suo fa è essere d'accordo o non essere d'accordo. Ok? Di accordo, d'accordo. Wotonghi, 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 wotonghi. Agree and not agree, sono d'accordo, wotonghi, 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 wotonghi. Sono di accordo. D'accordo. Wotonghi, 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 wotonghi. Sono d'accordo, non sono d'accordo. Ok, è già e ho fatto una cosa. Una cosa più difficile, magari ci sono più difficile. Diciamo un'altra. Unice verticale. Unice verticale. Unice verticale, bianca. Unice verticale. Scusi signora, posso chiedere un'informazione? Esatto, scusi! Va bene, ok ma? Una verticale. E a chi la vuoi chiedere? A Bianca. Prendiamo qualcosa a bar. Sì, molto piacere. No. Molto piacere. No, in chanda. Molto... Volentieri. Volentieri. Molto volentieri. 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 Sì. La sei orizzontale? Io non vado mai al cinema. Preferisco guardare la tv. La cinque orizzontale? Ciao, come va? Non c'è? Non c'è male, grazie. La quindici orizzontale? Posso avere un caffè? Certo, signora. La sedici? Facciamo una pausa. Dai. Ok. No, siamo pronti. Siamo pronti per l'unità 12. Allora, vero? Qual è il titolo dell'unità 12? Lo senti. In treno... In treno oi macchina? In treno oi macchina? In treno oi macchina? ora我問你,你要 cà fē, 還是要 cà fē, 怎麼说? voy un te ou un cà fē? voy un te ou un cà fē? 我们是今天, 還是明天要見面? oggi ou domani? oggi ou domani? ok? io dandiao sei nessuno brava gloria io mi dali un ma sono io fai in in treno o in macchina in treno o in macchina a piedi o in bici a piedi o in bici a piedi o in bici in treno o in macchina ma在这一堂课 会学到什么呢 chiedere e dare semplici informazioni sradarale cioè ma可以学问 很提供 简单的一些 路程的自讯 怎么问路 就简单的问路 所以这个也是非常 实用的 Come ci arrivo? Come ci arrivo? Arrivi alla stazione, vai sempre dritta, chiedere e indicare la durata di un percorso. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo? Quanto tempo? Sono 10. Quanto tempo? Quanto tempo più tempo? Quanto tempo e risponditioni? Quindi, il modo del modo di non 지�. Qui vakkurarlo il numero ordinario. 1, 2, 3, 4. Quanto tempo. C'è un'ottica lavoro. initially, in this class, in numeri ordinali. In numeri ordinali. 1, 2, 3, 4. You're going to have a different way. You are going to have some informations. C'è un'è un'è un'è? C'è un'è? E' un piccolo gioco, un piccolo esercizio, un piccolo gioco. Ognuno ha una lista con otto nomi di luoghi italiani, ok? Ognuno ha una lista con otto nomi di luoghi italiani. C'è uno studente A e uno studente B. Quindi a coppie, a due a due, vi sedete vicini a due a due, lo studente A e lo studente B. Lo studente B non guarda questa pagina, ma guarda pagina 143. Lo studente A, pagina 94. Lo studente B guarda pagina 143. Avete otto nomi di luoghi italiani. Quattro sono isole. Scegli un nome della tua lista e fai la domanda come nell'esempio. E' un'isola? Sì, è un'isola. Oppure no, non è un'isola. Se è un'isola, guadagni un punto. Poi rispondi alla domanda del compagno guardando sulla tua cartina. Vince chi indovina per primo i nomi delle quattro isole. Va bene? Quindi,你们就慢慢地找一下所有的地方. 不知道的话,就上网. 上网,就找所有的地点. 好不好? 好,开始. A due a due, vi相問一下,問答. Voi avete otto, otto censi, otto dimi,对不对? 94. Iè, io Capri, Genova, l'Aquila, la Maddalena, Pantelleria, Perugia, la Puglia, la Sicilia. I paesi, 43. Iè, io Bari, Napoli, Ischia, Favignana, la Calabria, la Sardegna, l'Elba e Aosta. Sardegna. E' un... Un'isola? Isola? Giù in zè i. E' un'isola? Pantelleria. A nord della Sicilia. A nord della Sicilia. Sì, è un'isola. E' un'isola. E' un'isola. Io giù in zè i. Un'isola. Tutte le isole? Avete trovato tutte le quattro isole? Sì? Allora, gli studenti, quelli che erano lo studente A, quali isole hanno trovato? A pagina 94, quali sono le isole? A pagina 94, lo studente A. Quali sono le isole di pagina 94? A pagina 95, lo studente A, quali sono le isole di pagina 95? A pagina 95, lo studente A. Nio 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 suo di scema? Nio 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 suo di assicma? Nio suo di assicma? Anord di Capri. Anord di Capri. A nord di Taiwan, a nord di Hong Kong, a nord della Sicilia, a la Sicilia, a la Sicilia, a nord di Singapore, Singapore non ha l'articolo, a nord di Sì, lo che mirogo. Magli, a sciмотрите a la Sicilia, a scuých old, a c'è la c'è la quà già. Sì, đây è è un entice, quindi io ho ancora Ria con la casse. Quindi ho ancora r donde vieno ha fatto la scuola? Sì, che ho ancora fatto lì, posso subire, ho ancora ria con il conto. Quindi ho ancora fatto dei sottotrui, ho ancorarângo, però ho ancora fatto. Pagina 94, quali sono le isole a pagina 94? A pagina 94, quali sono le isole? A pagina 94, quali sono le isole a pagina 143? Quindi a pagina 94, pagina 143. Quindi Capri è un'isola? Sì. Sì, Genova, no, Genova che cos'è? Genova è una città. Genova è una città. Genova è non solo una città, Genova all'interno della regione è il capoluogo. Il capoluogo è la città più grande, più importante della... Nel caso, che chiama? La Liguria è il capoluogo della regione, della Liguria. La Liguria è la regione, il capoluogo. Il capoluogo è Genova. Quindi ogni regione ha il suo capoluogo e altre province. Ok, quindi c'è la regione, ci sono 20 regioni. Poi c'è il capoluogo, ogni regione ha il capoluogo. e altre province. Città del video giungiao decensi. Ok. Sui giorni Capri è un'isola, ok? Genova è una città ed è il capoluogo della Liguria. Poi c'è l'Aquila, l'Aquila, l'Aquila... Cos'è l'Aquila? Avete visto l'Aquila? L'Aquila che cos'è? L'Aquila è una... È un capoluogo. È il capoluogo di quale regione? dell'Abruzzo. Ok. C'è il capoluogo dell'Abruzzo. È il capoluogo dell'Abruzzo. La Maddalena. La Maddalena invece che cos'è? È una città o un'isola? È un'isola. E dov'è quest'isola? Alice, dov'è quest'isola? Sardegna? È un'isola Nord della Sardegna. Della Sardegna. Sardegna è il capoluogo della Sardegna, Sardegna è una città di una città, la Sardegna. cerdinia cedì sì e tiplo si và 2 il quello che dice cottOTHER è connector là i novai e vers substitute mi non non ma i qui l'aquila molto特別 e ha una tipologia Il Cairo È un apparello Un apparello Il Cairo Un apparello Un apparello Un apparello La Sicilia La Sardegna Un apparello Un apparello La Maddalena Un apparello Un apparello non è un po' questo è un po' non è un po' quindi è un po' è molto importante a volte a un po' non è un po' ma è un po' quindi la Maddalena è un po' la Sardegna è un po' quindi la Maddalena è in Sardegna quindi ciò è a nord della Sardegna a nord della Sardegna ok c'è Pantelleria Pantelleria è un'isola? sì e Pantelleria è un po' 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 D' è comunque la Sardegna si e va Ok. Perugia. Perugia dov'è? Perugia che cos'è intanto? Una città o un'isola? O una regione? È una città, è il capoluogo dell'Umbria, dell'Umbria. Ed è al centro dell'Italia. E poi cosa c'è? La Puglia. La Puglia è una? Che cos'è la Puglia? Una città, un capoluogo, un'isola, una regione? Che cos'è? Una regione, una regione. La Sicilia? È un'isola ed è una regione anche. E' un'isola, è una regione. Ok. Ancho Bari. Ibai, se c'è san ye, o me che ikan? Zai giù, se c'è si ye. Bari è il capoluogo della Puglia. Bari è il capoluogo della Puglia. E Napoli? È il capoluogo? Ici? È il capoluogo della Campania. Della Campania. Ischia, ischia, ischia che cos'è? È un'isola. Dov'è ischia? Zama, zama xingrong, zama xingrong, zama xingrong, zama xingrong, zama xingrong, zama xingrong. Napoli de Nambier, zama xingrong, zama xingrong. A sud di Napoli. Ok. Favignana. Favignana dov'è? È un'isola intanto o una regione? Cos'è Favignana? È un'isola, una piccola isola. E dov'è? A ovest della Sicilia. Favignana è una piccola isola ad ovest della Sicilia. La Calabria che cos'è? La Calabria è? La Calabria è? Una regione. Una regione. Dove? Al sud d'Italia. Al sud d'Italia. Nella zona sud orientale dell'Italia. A sud est. A nord est. va bene? Nord sud est ovest. Nord sud est ovest. che cosa c'è a est di Taiwan? la città sulla costa est, la costa orientale. Nord. Nord. Il settentrione. Nord. Il settentrione. Sud. Il meridione. 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 Est. L'oriente. l'oriente. Xinhrunzi. Orientale. Ovest. L'occidente. Xinhrunzi. Occidentale. L'occidente. Occidentale. ci sono? Sulla costa orientale di Taiwan sulla costa est di Taiwan. Ischia è al sud di Napoli, Favignana è una piccola isola ad ovest della Sicilia, la Calabria è una regione del sud d'Italia, la Sardegna è un'isola e anche una regione, l'Elba, cos'è l'Elba? Sì, l'Elba è una piccola isola. Di fronte alla Toscana, di fronte alla Toscana. E' il capoluogo della Val d'Aosta. E' il capoluogo della Val d'Aosta, la Val d'Aosta è questa piccola regione a nord ovest dell'Italia. La Val d'Aosta, a nord ovest, vero? Sii bei, zui si bei de shen, si bei de taci. A nord ovest ai confini con la Francia, la Svizzera, la Francia, la Svizzera. Se publica, vi è un' Aquile... Paolo a durare un nuovo discorso e risultato. Ciò cheukan maiмо da un'alu alongside l'area? Ehm... Ehm... Na,我们就开始面对这个对话吗? Ehm... Yà油 bullo? Hah... Vediamo queste quattro immagini. L'immagine 1, cioè Capri e Perugia, vero? Ok, in tutte e quattro le immagini abbiamo Capri e Perugia, due foto, Capri e Perugia. E c'è una conversazione, una conversazione fra due persone. Dobbiamo capire quale di queste quattro immagini meglio rappresenta la conversazione che adesso andiamo ad ascoltare. Nella prima immagine che cosa c'è? In tutte e quattro c'è Capri e Perugia, va bene, ma a Capri cosa succede? Nella prima immagine a Capri piove, vero? Piove, piove. Cosa vuol dire piove? Come oggi, vero? Piove. Piove, piove. Invece a Perugia non piove, c'è il sole, c'è il sole, bel tempo. A Capri piove e c'è molto traffico, vero? Ok, c'è traffico, piove, a Perugia c'è il sole. Nella figura 2 cosa succede? A Capri c'è il sole e c'è un ragazzo a tavola, al ristorante, vero? A Perugia c'è una ragazza, c'è il sole e c'è una ragazza in macchina. Nella figura 3 cosa c'è? Dov'è il microfono? Ah, Ludovico, cosa c'è nella figura 3? Come vuoi, tutte e due. A Capri? A Capri? Ah, adesso c'è Davide che c'è, ah. Ah, a Capri? A Capri? C'è? Mettetevi d'accordo. Ah 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 A Capri, a Capri c'è il sole e c'è un signore, un ragazzo, hai ragione perché ha l'orecchino vero, hai ragione, hai ragione, sono tutte le due ragazze, scusa, brava. Grazie, grazie. Con gli occhiali non vedo da vicino, senza gli occhiali non vedo da lontano, non so più che occhiali mette, no è vero. Non si può diventare male. Allora mia nonna diceva che non deve invecchiarti, non si può diventare male, non si può diventare male. A Capri c'è una ragazza al mare, ok, al ristorante, ok, che mangia, sì, e a Perugia c'è il sole? No. Piove, a Perugia piove e c'è una ragazza, e c'è una ragazza in? Dote s'piove e c'è un terme d'ore sulla piave e nè? Piove e nè? Dote s'piove e nè? Dote s'piove e nè? Dote… Dote… hacerlo abbia o meno c'è un terme di세요, haceromek? Dote, due ris, presentazione al maio, quindi invece invece di�o a fare la calza in pericledire. ma capire non vorrei ma la sicure non vorrei düşurbale quindi la cosa invece specificamente che sono quindi Quindi è un vero che è un vero che è un vero. quindi cioè giusto p€€ere it rains pò espocchi pò soio di con typically象 con contegno che con el talks con contegno sì e so quindi imp estructura nonicki Giù di xan rin chan dan shu eri. Hao, sui piove a Perugia c'è una ragazza in macchina, va bene? Di siga ne? Nella quarta foto, shai xiang jie shau ne? Giu shou? A Capri c'è una ragazza al ristorante a mangiare. Si? E c'è il sole o piove? C'è il sole. C'è il sole. A Perugia è un ragazzo. C'è una ragazza che guida, che guida, guidare. C'è una ragazza in macchina che guida, who is driving, che guida, guida, guidare. Si? E piove o c'è il sole? Ovviamente Il mio giang, tiensi? Giang ma? Piove, di ma? Piove. Ok, e piove. Benissimo, ok. No, ma senza io ti ho. Modulo 5, unità 12, traccia 40. Ok 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 Ok, na Okay T'ing Quanta due? Pronto? Pronto Mariana, ciao sono Rita. Ehi ciao Rita, aspetta un attimo sto guidando, sono in macchina. Sì dimmi, sei già arrivata a Capri? Sì sono arrivata, sono arrivata oggi, da due ore. Ah che bello, senti com'è il tempo lì? Qui a Perugia sta piovendo. Qui è bellissimo, c'è un sole stupendo in questo momento, sto mangiando di fronte al mare. Bello, non vedo l'ora di essere lì, così vedo anche la tua casetta. E finalmente! Ah ah! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Quindi avete già visto questa parte? Avete capito? No, Mariana. Mariana, chi è questa? La sciampista! La sciampista, vero? Che aveva lasciato il cornetto al cioccolato alla bambina, vero? A Sofia! Ah Sofia, ok. Mariana dice, è pronto? Pronto! Chi risponde? Rita, vero? Rita dice, è pronto Mariana? Pronto Mariana! Ciao, sono Rita! Ciao, sono Rita! Ciao, sono Rita! Ehi, ciao Rita! Ehi, ciao Rita! Aspetta un attimo, sto guidando, sono in macchina! Aspetta un attimo, sto guidando, sono in macchina! Sto guidando, 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 I'm driving right now 好,那 Soni ma'kina Soni ma'kina questo è il momento, non? Ma'kina 你们常常会念 ma'kina 不对 Soni ma'kina 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 Soni ma'kina Soni ma'kina 好, quindi 谁在开车? Mariana Rita Ok, ok Mariana Sì dimmi Sei già arrivata a Capri? Sì dimmi Sei già arrivata a Capri? Sì sono arrivata Sì sono arrivata Sono arrivata oggi da due ore Sono arrivata oggi da due ore Ah ah Sei Rita Dove è? Rita è a Capri Mariana è in macchina Ok Mariana Sioà che bello Senti com'è il tempo lì? 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 Com'è il tempo? Com'è il tempo lì? Com'è il tempo lì? Qui a Perugia sta piovendo. Qui a Perugia sta piovendo. Mariana è in macchina, sta guidando, è a Perugia e sta piovendo. Invece Rita è a Capri e dice qui è bellissimo, c'è un sole stupendo. In questo momento sto mangiando di fronte al mare. Bello, non vedo l'ora di essere lì. Ah! Popocitai, non vedo l'ora di essere lì. Così vedo anche la tua casetta. Così vedo anche la tua casetta. Eh! Finalmente! Eh! Finalmente! Ok! 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 Dove è Capri e dove è? Nel caso è Pag. 143. Vero? Da Perugia a Capri. Va bene? Capri è un'isola, vero? Una piccola isola vicino di fronte a Napoli. Quindi... Quindi... Si... ... ... ... ... ... ... Il primo è... Mariana va in aereo ma... ... ... ... ... come la macchina in aliscafo cosa è aliscafo? aliscafo aliscafo che si che si che si si aliscafo 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 sui e chan sui e tim in autobus in macchina in macchina i macchina in metro a piedi in tram in treno in treno in treno in treno in treno in treno come andrà come andrà come andrà in macchina in macchina in macchina e dopo in treno in treno in treno in treno potrebbe andare da Perugia ok fino a fino a Napoli ok e poi da Napoli come andrà come andrà come andrà diverse possibilità potrebbe andare in macchina direttamente fino a Napoli e poi da Napoli prendere e poi un autobus un autobus e poi un autobus ok e poi un autobus ok da un autobus ok ok la numero 43 traccia 43 pronto 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 Mariana ciao sono Rita ehi ciao Rita aspetta un attimo sto guidando sono in macchina si dimmi sei già arrivata a Capri? si sono arrivata sono arrivata oggi da due ore ah che bello senti com'è il tempo lì qui a Perugia sta piovendo qui è bellissimo c'è un sole stupendo in questo momento sto mangiando di fronte al mare bello non vedo l'ora di essere lì così vedo anche la tua casetta e finalmente a proposito a cosa pensi di arrivare? e guarda io sto andando alla stazione tra 20 minuti ho il treno ah quindi prendi il treno si si e mi devi dire cosa devo fare dalla stazione di Napoli si dunque arrivo alla stazione centrale e devi andare al monobieverello a prendere l'alliscafo ah e come ci arrivo? prendi o il tram o la metro meglio la metro perché è più facile quindi direttamente dalla stazione ah bene che linea? eh linea 2 e devi scendere alla seconda alla seconda ok va bene quindi ah vabbè due fermate si direzione Pozzuoni ah ah e no non sei arrivata c'è un altro pezzetto a piedi da fare praticamente tu scendi via Montesang una volta che sei lì dopo 100 metri arrivi ad un'altra piazza dove c'è la biglietteria per l'alliscafo oddio mi sembra complicatissimo ma no sono dieci minuti eh non di più non ce la farò mai ma dai se no fa prendi la macchina come te avevo detto io no la macchina a Napoli ma non ci vengo no non ci vengo in macchina poi lo sai passano col rosso superano è terribile il traffico ma che esagerato i napoletani non sono mica tutti così sì lo so però guarda i posti in cui non rispettano le regole proprio non li sopporto vabbè insomma fai come vuoi comunque ricordati di prendere il biglietto in 40 minuti vedrai che arrivi a Capri poi al porto ci sono io quindi stai tranquilla ti vengo a prendere ok? ok Mariana? che sta succedendo? con chi stai parlando? eh niente niente senti scusa poi poi ti dico e ti spiego ciao devo chiudere ciao 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 dice a me? è certo che dico a lei signora non ha visto il semaforo? è rosso ah è vero sì sì è rosso guardi mi scusi signora lo sa che hai vietato parlare al telefono mentre si guida? sì 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 no no lo so è che io stavo solo un attimo sì ho capito ma è anche senza cintura signora le devo fare la multa mi dispiace no no mi scusi guardi le spiego non... stavo a rispare ha 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 A proposito, a che ora pensi di arrivare? Beh, guarda, io sto andando alla stazione. Tra venti minuti o il treno? Ok, sto andando, sì, ma? Guarda, io sto andando in my head. Stare di unito, saare di unito, più una unito. Spillare di unito, con unito, con unito, non? Quindi doveva andare in unito, la stazione, che espancia il caso di unito, poi che è lo stesso, che è lo stesso. 一個的那個 原型洞詞那個ARE 改成ANDO 好那 R 이래洞詞呢 改成ANDO 好 所以如果是 PRENDERE R 洞詞呢 PRENDERE PRENDENDO la ruo si partire ne partendo a redonze ando e redonze ando ok nace mien shi yun shi stare c'è che don't sto stai sta stiamo state stanno quindi sto stai sta stiamo state sta stanno già don't mince stare già don't mince ok stop 老舍在干嘛在講話所以 Antonella stop 這個我們上學期已經有提到了 stop parlando l'anime在聽 ascoltare gli studenti stanno ascoltando Antonio在寫筆記 sta scrivendo sta scrivendo sta scrivendo ok 等等 所以這裏是sta io sto andando 我在去火車站 我再去火車站 tra 20 minuti o il treno 這個解析詞是什麽 tra 這個 tra表示什麽呢 未來 ok 再過多久英文的是 in ok in a week in a month in two weeks we're gonna have our meter fra或者tra一样的 fra或者tra 我跟你們另外一個簡易對不對 今天我就跟你們看在西班上有很多的解析詞 有地方的解析詞啊 時間的解析詞 我這樣子分啊都可以看到很多的聯繫題啊 也可以看到這個 保護 好 所以就 再過二十分鐘 再過兩個禮拜 怎麽說 我們考試了 fra fra 或者tra due settimane abiamo gli esami 或者ci sono gli esami fra 或者tra fra due settimane ci sono gli esami 或者 abiamo gli esami tra 20 minuti ho il treno ah quindi prengi il treno ? due crowded quindi due oh woishima他 jianzo wennah inwe ta makareンプ beh lai tase kay che değilma so in i決定 zo ho chè quya sissi e mi devi dire cos devo fare della Stra sione dine poli si Sì, sì, e mi devi dire cosa devo fare dalla stazione di Napoli. Sì, dunque. Arrivi alla stazione centrale. Devi andare al molo beverello. A prendere l'aliscafo. Cos'è il molo? A prendere l'aliscafo. Ok? You have to go to the駐央火車站. You have to go to the Vendarello. And then you have to go to the Vendarello. And then you have to go to the Vendarello. A prendere l'aliscafo. Ah! E come ci arrivo? A è come ci. A. Come ci. Ah, come ci. Come ci. Come ci. Ci sono le bambini? Ah, come ci. Come ci, ci. È come ci, ci. E se ci sono le bambini? Noi? Noi. Perché è più facile, perché è più facile, è più facile, la prendi dalla, direttamente dalla stazione. La prendi direttamente dalla stazione. Ah, bene, e che linea? Linea 2. E devi scendere alla seconda. Alla seconda, ok, va bene. Quindi, ah, vabbè, due fermate e poi sono arrivata. Due fermate, sì. Direzione Pozzuoli, eh? Direzione Pozzuoli, eh? Direzione Pozzuoli. No, non sei arrivata. Non sei arrivata. C'è un altro pezzetto a piedi da fare. C'è un altro pezzetto a piedi da fare. Ha may dao, d opudue? Ha yau zǒ i xiao dù en lu-a, ok? Da fa ni, bi shu yau zǒ liwa i xiao dù en lu-a. Praticamente, Gend'and Dai shuo, ha. Tu shendi in via Montesanto. Praticamente, una volta che sei lì, una volta che sei lì, dopo cento metri, e poi, dopo cento metri, arrivi a un'altra piazza. Dove c'è la biglietteria per l'aliscofo? La biglietteria per l'aliscofo. La biglietteria c'è sema? La biglietteria per l'al CHRISCO. Oddio! Mi sembra complicatissimo! Giù è molto infettata, la goof, e dove ha? Dio! Non ce la farò mai! Ma dai! Se no, non so! Prendi la macchina! Come ti avevo detto io! No, con la macchina a Napoli non ci vengo! No, con la macchina non ci vengo i maquina! Poi lo sai! Passano col rosso! Passano col rosso! Superano! È terribile il traffico! È terribile il traffico! Esagerata! È terribile il traffico! È terribile il traffico! Regole! The rules! Regole! Proprio non li sopporto! Proprio non li sopporto! Proprio non li sopporto! Proprio non li sopporto! Comunque! Comunque! Ricordati di prendere il biglietto! 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 Poi al porto ci sono io! Poi al porto ci sono io! Poi al porto ci sono io! Della nega gancao! Poi al porto ci sono io! Quindi stai tranquilla! Quindi stai tranquilla! Mi fanzin! Ti vengo a prendere, ok? Ok, Mariana! Ti vengo a prendere, ok? Ok, Mariana! Mariana, Mariana! Che sta succedendo? Che sta succedendo? What's happening? Con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Mariana con chi stai parlando? Mariana con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Il vigile! Il vigile! E niente, niente! Senti scusa! Poi ti dico, ti spiego! Ciao ciao! Ok, ciao ciao! Mariana con vigile! Dice a me! E certo signora! Dico a lei! Lei, signora! Non ha visto il semàforo? È rosso! Non, ma si stai parlando! Poi ti dico, non! Non, non, non! È vero! Si, si! È rosso! Guardi! Mi scusi! È rosso! È rosso! Signora, lo sa che è vietato Parlari al telefono mentre si guida? Non, ma si stai parlando! Non, ma si stai parlando! Non, ma si stai parlando! Ah, ma si stai parlando! Non mani che prend' la mano! Non mani che prend' la mano! Non mani che prend' la mano! Il non mani che prend' la mano! Si, si! Non, non! Lo sa! È che io stai parlando! Solo un attimo! Si, ho capito! Ma è anche senza cintura! Ma è anche senza cintura! Ah, non mani che prend' la cintura! Sangha guà di , non c'è due 일 pietro. Passa col rosso ... Passa col rosso. Parla al cellulare mentre guida, mentre guida parla al cellulare. Non ha la cintura. Signora, le devo fare la multa, mi dispiace. Signora, le devo fare la multa, mi dispiace. No, no, mi scusi, le spiego. Favorisca la patente. 这个是警察平常用的用语, favorisca la patente,麻烦给我你的假照, favorire,请出示一下你的证件. ok? Favorisca i documenti, favorisca la patente. 这个 zun chen de min ling shi, ok? Favorire, favorisca,平常是用 zun chen de. 好,所以整个故事,这个对话的故事,所以这个 Mariana,很可爱, non vuole andare a Napoli, perché a Napoli non rispettano le regole. il traffico è molto caotico, ma lei stessa,她自己,对吗? lei stessa, non, non rispetta, non rispetta le regole stradali della guida. ok, inanime,现在都,都知道, ta,应该, ta, quali sono i mezzi che deve utilizzare? allora, la macchina. secondo quello che ha detto Rita, lei deve andare in macchina, poi? in treno, a piedi, a piedi, bravo, poi deve andare a piedi, un po' a piedi, sì? prima in metro? in metro, no, ok. io sono terribile per questa cosa. devi andare al molo, a prendere l'escavo, come ci arrivo? prendi il tram o la metro, la metro è più facile, ok? prendi la metro, due fermate, poi si è arrivata, no, prima la metro, poi a piedi, ok? e poi? quindi in macchina, in treno, in metro, a piedi, e poi? in aliscafo, benissimo, e basta vero? ok? 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 chi è in treno? nessuno nessuno chi sta mangiando? rita chi sta parlando al telefono? rita e mariana chi è a napoli? nessuno chi è a capri? rita chi è a perugia? mariana mariana chi dice che piove? chi dice che piove? mariana a perugia piove dove è la? chi dice che c'è il sole? rita rita chi vuole incontrare l'amica? Marianna mh te mariana chi ha una casa a capri? rita chi non conosce bene Napoli? mariana chi propone di prendere la metro? Rita, proporre, va bene? Chi non vuole pagare il biglietto della riscafo? Chi non vuole pagare il biglietto della riscafo? Nessuno, nessuno. Chi propone di andare a Napoli in macchina? Rita, Rita. Chi non vuole andare a Napoli in macchina? Mariana. Chi dice che non ama come guidano i Napoletani? Mariana. Chi parla con un amico? Chi dice che non ama chi non rispetta le regole? Mariana. Chi parla con un amico? Con un amico? Nessuno. Nessuno. E' il vigile, no? Chi non rispetta le regole della guida? Mariana. Mariana. Io mao duende. Ok. Ok, perché il vigile vuole fare la multa a Mariana? Perchè il vigile vuole fare la multa a Mariana? Perchè il vigile vuole fare la multa a Mariana cosa vuol dire? Perchè? Passa col rosso. Va troppo veloce? No. Non si ferma allo stop? No. No. Io ma? No. Io ma? Non mi piace. Parla al telefono? Sì. Non alla cintura? Sì. Parcheggia in divieto di sosta? No. Dei me? C'è 3. Ah. Cessie dunci n'imè t'ò cintù m'ah? C'è chè da. Quai 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 chè da. Dovete guida ri in Italia. Parcheggiare in divieto di sosta. Va bene? Wa bukui chi chè ho. Io non guido. Qui sulla strada sono un po' però... 對這種用語 我自己要加強一點 靜止停止 在... 靜止停止處 就是停止, va bene? Non fermarsi allo stop 有一個停止線 齁 在那個...那就不停 不停止 有一個停止線 allo stop va bene, questo è molto chiaro 最後一個部分 我們有跳過去一個小的文章 是關於 e trasporti vero 我放在後面嗎? 還是放在前面 交通工具,這裡 我們要讀一下嗎? 我們要讀一下嗎? a pagina 95 i trasporti 交通 也不一定是交通工具 應該說交通 i trasport 很喜歡開車 除了 Antonella 以外 per questo la situazione del traffico soprattutto nelle città soprattutto nelle città è molto difficile e molto difficile 所以每一個城市 交通就很乱 很塞車 nel centro-sud nel centro-sud sono molto usati scooter e motorini sono molto usati scooter e motorini come a Taipei mentre al nord mentre al nord e soprattutto nella pianura padana nella pianura padana nella pianura padana la pianura padana 知道嗎? si usa molto la bicicletta solo in alcune città Roma, Milano, Napoli, Genova, Catania, Torino, Perugia c'è la metropolitana 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 ok 不是每一個城市 有接運 或者地鐵 ok 這個是關於 我們在這個單元 我們先到這裡好不好 我們要不要看 La Pimpa 要嗎? si Let's go now 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 with the sheep ho preso il vaso fuori ho preso il raffreddore allora fa freddo freddissimo è tutto gelato vado a dirlo al frigo fuori si gela che bello lo dico ai ragazzi fuori si gela almeno possiamo uscire senza scioglierci è ghiacciato anche il fiume possiamo pattinare i pattini bella idea ma voi siete a rotelle io che paura mettiamoci il berretto per non prendere freddo prendere freddo buona questa andiamo verso il mare così si va in discesa che esatto Non c'è un po' Ecco il mare ragazzi E' ghiacciato anche lui All'indietro raga Ciao bella Nino dove stai andando? Venivo da te Mi son detto, il mare è ghiacciato Vado a trovare la pinta Hai fatto tanta strada allora Si, e adesso ho una fame? Anch'io Cosa c'è nel tuo zainetto? Formaggio o caccia? Tante cose, ma niente da mangiare Mangiare? Qualcuno vuol mangiare? E' qui sotto C'è qualcuno là sotto Ci penso io Ecco Volete zuppa di alche? O volete la pizza? La pizza! Et voilà! Niam Niam Che bontà Niam Niam Era di vostro gradimento? Buonissima Come ti chiami? Toton Adesso chiude Se no entro freddo Grazie Toton Prego bella Torniamo a casa? Si E' ora Allora ciao Ciao Veniamo con te Nino Non ci piace star chiusi nel frigo Ciao Dov'eri? Sono andata a pattinare A sola? No Con il ghiaccio Certo Senza ghiaccio Non si può patinare E poi? Ho mangiato la pizza In mezzo al mare Non ci credo No Assaggio allora Allora È buona Ma è fredda Certo Il mare tutto ghiacciato Can I? Can I? Can I 会可以快一快的 给你们看 那个 那个 对话吗 No Yes 这样子 你们会 可能 比较 容易 Super , No He First 看 哪些 Er Er cosimo che le Ésna l'anirito le茄 植 edo 10 questo no questo sì lo ricezzo è il frizzato sia il naso emia ha messo il naso fuori ho messo il naso fuori ho la mia bestra l' hallway ho prendo il rispondio ho preso il rasgredore la bici fa freddo o freddissimo è tutto gelato viすごie lo dicono ragazzi quindi non vi aggare quindi io faccio l'impacto io faccio l'impacto quindi io faccio l'impacto quindi io faccio l'impacto i faccio l'impacto e il suo lavoro quindi io faccio l'impacto abbiamo uscito senza scegliere non va roma possiamo senza scegliarci quindi il Wendouji ha detto anche il fiume e anche il fiume e anche il fiume e quindi il Wendouji ha detto che possiamo andare a livello possiamo patinare i pattini bella idea i pattini a livello a livello a livello vedi lui ha detto a livello e lui ha detto non ha paura non ha paura ma non ha paura allora lui ha detto mettiamoci il berretto mettiamoci il bambino per non prendere freddo prendere freddo buona questa buona questa Andiamo verso il mare, qui si va in discesa, ecco il mare ragazzi, è ghiacciato anche lui, all'indietro ragazzi, ciao bella, dove stai andando Nino? No, non vediamo da te, io trovare il mare, è cazato, non posso trovare la pinta? Ho scusato, poi via l'indietro ragazzi, poi non ci sono e non ci, non ciò che dire, non ciò che ci trovare la pinta, Sì, è solo una fama, ma io sono molto freddo, anche io, cosa c'è nel tuo zainetto? Niente pezbo, c'è qualcosa che c'è, non c'è nulla da fare. Mangiare, qualcuno vuole mangiare, Qo sass to漆 Stupid I responded? Quindi io faccio e zuv polisata, e qui citaron? Poi che c'è l'enro one? Se le chiam commetto con il nostro sito d'vo because Il mi significa anzono da zainoe. Has questo? Vики, come ti senti già? Vici di questo? Ma questa come sarebbe come un artesano, Nime di rai da cassa, tnessi di rai da cassa? Edudiamo il frattito della cassa, questo è un bologno di infeccia, ha una bologna di riflettere. Come hai con la cassa, e questo è tutto bene. Miam, miam, qué buona. E là di vostra cosa, è meglio Alcosa, che pensi ancora di piacerebbe freddo? Buonissimo, come ti chiami totto? Preggo bello. 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 Grazie.